Con l'assessore alla pesca Fabio Orbinati per fare un po' il punto sulla marineria sanbenettese alla luce dei progetti, delle novità anche di questi ultimi anni, 12 demolizioni nel 2012, qual è la situazione della marineria di San Benetto? Sicuramente la situazione negli ultimi anni si è aggravata perché questo è un settore che vive una crisi profondissima da più di 15 anni, la crisi congiunturale che ha colpito anche altri settori delle economie portanti del nostro territorio chiaramente ha aggravato un po' la situazione. È importante però che in questi ultimi anni ci siano parecchi progetti che denotano un risveglio in questa attività, soprattutto da parte di quelle imprese che nel ventennio della pesca atlantica e dopo hanno avuto la possibilità di sviluppare grandi know-how che oggi sono importantissimi in tantissime marinerie del mondo. Quindi noi confidiamo che anche il nuovo piano della pesca che è stato varato a Bruxelles qualche mese fa e che sarà operativo entro l'anno 2014, che prevede proprio all'interno un nuovo piano per la gestione dell'Adriatico Loionio, possa segnare una grande ripresa, una ripresa a livello nazionale e che noi vogliamo dire con una punta di orgoglio possa partire da questa città. Noi sappiamo benissimo che su questo nuovo piano della pesca la marineria sanbenettese ha lavorato sin dall'inizio della sua stesura grazie alla collaborazione del vice presidente della commissione pesca Bruxelles e l'onorevole Milana che ha tenuto in debito conto quelle che sono state le nostre indicazioni. Ora la bravura delle associazioni, la bravura di noi come amministrazione dovrà essere nel mettere in pratica tutte queste novità e questo risveglio politico che c'è stato intorno al settore della pesca. Le nuove generazioni in che modo si confrontano con il mondo della pesca, visto che negli anni 60-70 era lo sfogo principale per i sanbenettesi? Certo, è classica la battuta che oggi vediamo anche in tanti spettacoli teatrali che alla fine della scuola dell'obbligo il genitore chiedeva al figlio vuoi andare a scuola o vuoi andare a mare, non a lavorare ma si diceva vuoi andare a mare perché appunto era l'economia della nostra città. Per i giovani c'è una grossa possibilità, infatti questa è un'indicazione che è venuta proprio dal nostro territorio, il nuovo FEAMB che ha stanziato di nuovo 6 miliardi e mezzo di euro a livello europeo, sono tanti soldi se prendiamo in considerazione altri settori, prevederà proprio un comma, una legge proprio sul rinnovamento generazionale. Infatti un pescatore che ha più di 50 anni potrà assumere un dipendente che ha meno di 30 anni e il 50% del costo sarà sostenuto dalla comunità europea attraverso il FEAMB.